E' il mio padre. Questo pesa di più. Ancora gemelli, grande. Guarda. Ok. Per un attimo ho pensato che avessero lo stesso peso. Viene con me. Sarebbe stato un problema. Ok. Grazie, Daina. Ok. E tu? Sì, sì, sì. Solo qualche grammo in meno. Lo so che fa un po' male. Lo so, lo so. Ma devo usare una vena. E quelle sulle braccia sono troppo piccine. Ci siamo, ci siamo quasi. Ecco. Non ti ho fatto poi così male, no? E' morto. Non sa cosa sta facendo. Non sa cosa sta facendo. L'ha ammazzato. Lui non sa cosa significhi. Come non lo sapevi tu. E nemmeno Rosemary. Ma non vede che il bambino non si muove più? Non capisce che c'è qualcosa che non va? I vecchi e i bambini vengono uccisi. Anche la tua amica Fiona presto verrà addestrata a congedare. Questo non è vero. Lei non lo farebbe mai. Se Fiona si rendesse conto... I unici che si rendono conto siamo noi, Giannis. Allora è colpa nostra. È colpa mia, sua e di tutti gli altri accoglitori che ci hanno preceduti. Ci deve essere un modo per fargli vedere. Per trasmettergli le memorie affinché comprendano. Se non possiamo sentire... Vivere che senso ha? Ma cosa puoi fare tu?